Nessuna barriera né fisica né sociale né geografica alla piscina comunale di Città di Castello. Dall'undi 3 ottobre 15 bambini e ragazzi con autismo della provincia di Arezzo potranno andare a lezione di nuoto insieme ai loro coetanei. Il disturbo di cui soffrono non sarà quindi più un ostacolo per i protagonisti del progetto che potranno fare sport e socializzazione con gli altri utenti senza essere isolati o separati in spazi riservati. Lungo le corsie della vasca principale dell'impianto prenderà così avvio un inedito percorso di integrazione sociale che il comune attuerà con Polisport e col ASD TMA Toscana di Arezzo che ha trovato proprio nei comuni Tifernate le risposte agli obiettivi di sviluppo delle attività riabilitative in acqua che altrove non erano possibili. In turno da tre utenti ogni 45 minuti i giovani con autismo protagoniste dell'esperienza parteciperanno alle lezioni in programma tutti lunedì dalle 14 alle 19 e 30 con gli operatori dell'associazione. A partire dalle 16 e 30 nella fascia oraria in cui sono previsti i corsi della scuola di noto Polisport condivideranno le corsie della piscina con i coetanei di Città di Castello e della Vallata iscritta ai corsi e parteciperanno alla stessa attività in acqua proposta dagli istruttori della società. Un'opportunità di integrazione sociale sempre ricercata nella piscina comunale Tifernate dove gli utenti con sindrome di Down da anni possono partecipare ai corsi di nuoto insieme a coetanei normodotati.